L'Ars si insedia, ha preso forma il nuovo Parlamento regionale a tenere banco, ancora l'elezione a Presidente d'Aula, sempre in poll, Gianfranco Miciche. Bentrovati a tutti, puntuali come tutti i giorni con la nostra notizia del giorno, come prima finestra informativa. Ebbene, se è insediata la nuova Assemblea regionale, da Palermo per noi, Marco Gullà. In marcia per accompagnare i deputati Grellini alla prima seduta dell'Ars. È iniziata così, con questa nota di colore, la legislatura musumeci. Il Signore ci accompagna, ha detto il Governatore facendo il suo ingresso a Sala d'Ercole. Sono qui per portare la bellezza della Sicilia nel mondo, ha invece dichiarato l'assessore Vittorio Sgarbi. Penso di portare a Palermo i capolavori dell'arte classica presenti in Sicilia per l'anno in cui la città sarà capitale della cultura. Il satiro sta bene dov'è. Totò Riina non può fare paura da morto come un faraone. Riina è morto, i monumenti sono vivi. Frattanto i 5 Stelle confermano che per la Presidenza voteranno cancellieri che all'ingresso di Palazzo dei Normanni si è fermato ai nostri microfoni, aprendo però ad una opposizione costruttiva. Purtroppo una maggioranza costruita sugli interessi personali è inutile negarlo ed io spero che Musumeci faccia presto una ragione di questo. Quindi se vuole davvero fare qualcosa per il popolo siciliano e per risolvere i problemi insomma ha un'opposizione alla quale si può rivolgere. In cambio non vogliamo niente, vogliamo semplicemente il buon senso delle proposte per risolvere i problemi di questa terra. Ed è proprio l'elezione del Presidente il primo nodo da sciogliere ma sulla strada che dovrebbe portare Miciche allo scranno più alto di Sala d'Ercole ci si mette pure la malasorte. Infatti oggi un deputato della maggioranza non potrà essere a Palermo a causa di un grave problema familiare. Così la prima seduta della 17esima legislatura dell'Ars avrà fumata bianca perché il centrodestra potrebbe contare solo su 35 voti su 70 che non sono sufficienti come primo scrutinio. Il Partito Democratico ha proposto un accordo istituzionale che garantisca entrambe le due vicepresidenze all'opposizione una ai Dem e l'altra ai 5 Stelle. L'Amici che ha rimandato al mittente l'offerta. Nel frattempo oggi era presente in forza il nuovo governo regionale da Musumeci a tutti gli assessori che faranno parte della sua squadra. Sui problemi di bilancio e le future linee di azione in materia economica ha fatto appunto il vicepresidente Gaetano Armao, nuovo numero uno dei conti sull'isola. Si esce da questa situazione con le carte ai conti in regola. Dobbiamo assolutamente chiarire il quadro. Quello che stiamo facendo dopo aver trovato i documenti finanziari non completi a partire dal bilancio consolidato che doveva essere presentato il 30 settembre e di cui non c'è traccia. Questo ha fatto sì che sono scattate le sanzioni previste dal legislatore ma stiamo ponendo rimedio sia con rapporti attivati e ottimi già con il governo nazionale, con la regione generale dello Stato, con la struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche con la struttura del Ministero delle Regioni. Avrò appuntamento con il sottosegretario Bressa la prossima settimana per inquadrare per esempio le situazioni delle nostre province che sono state lasciate al sostanziale default perché il cosiddetto contributo forzoso al risanamento della finanza pubblica che viene regato monta circa 200 milioni di euro e dopo aver consumato in questi anni gli avanzi di amministrazione le nostre province oggi di periconsorsi non sono più in grado di sostenerlo finanziariamente. Quindi è un momento molto complicato ma la regione vuole invertire la tendenza. Questa era la nostra notizia del giorno e noi tra pochissimo ancora insieme dopo la pubblicità per i nostri Tg. Le panchine della discordia collocate dal comune di Erice sul lungomare Dante Alighieri sono state prese di mira dal popolo del web. Storia di degrado, una discarica abusiva è stata realizzata alle spalle della cittadella della salute. Chiesta l'archiviazione per Stefania Modena nella prossima edizione torneremo a parlare dell'azienda trapenese coinvolta in un'inchiesta di reciclaggio di denaro. La procura ha però chiesto di non procedere. Le previsioni del tempo e sempre nella prossima edizione spazio anche che tempo farà. E per il Tg Sport manteniamo alta la concentrazione. Coach Ducarello ha presentato questa mattina la sfida di domani che si giocherà alle 18.30 a Roma contro l'Eurobasket. Messineo non è a zecca una. Ancora una volta il presidente di Telesud Massimo Marino torna sul commissario trapenese. Nell'approfondimento delle 14.20 questa volta commenterà l'ordinanza sull'arredo urbano e le emissioni sonore. Ben trovati ancora con le nostre notizie. Tante critiche sui social per la disposizione delle panchine realizzate dal comune di Erice e sul tratto di Litorane anche ricade nel proprio territorio. Quello che abbiamo visto prima è quello che si vede seduti su questa panchina montata sul litorale d'Antalighieri nel lato Erice. Le immagini che vi ha mostrato dopo il nostro camera ve ne sono quelle che invece avremmo potuto ammirare se la visuale sarebbe stata rivolta verso il mare così come logica del resto ci fa pensare. Sono state installate queste panchine da qualche giorno e c'è già un gran rumoreggiare sui social. Non voglio sindacare il lavoro dell'architetto che ha realizzato questa installazione di queste panchine anche se ricordo di aver visto qualche tempo fa un progetto dove queste panchine dovevano rientrare in una più complessiva progettazione di fruibilità di quest'area. C'era un progetto per la riqualificazione di questo tratto della Litoranea che è quella sempre, ripeto, del comune di Erice. Che si sia iniziato da questo e si debba continuare a breve speriamo per la riqualificazione, ce lo auguriamo. Ma sinceramente se ci si dovesse fermare a quello che stiamo vedendo abbiamo di che essere delusi. Delusi perché quello che stiamo vedendo con tutto il rispetto per la montagna di Erice dove non ci sono più neanche gli alberi e soprattutto con tutta questa sterpaglia che circonda questo luogo non è un gran bel vedere cosa che invece sarebbe stata ammirando il mare. Ci chiediamo anche che questa è una soluzione che probabilmente chi ha progettato questo intervento urbano l'avrà fatta pensando che questa potrebbe anche essere utilizzata come una zona pedonale perché se io devo sedermi qui e vedermi passare i camion carichi di marmo che arrivano da Gustonaci o le macchine che corrono e passano una dietro l'altro direi che non è stata sicuramente una scelta brillante. Mi auguro solamente che quantomeno per dare un senso a queste panchine rivolte verso la strada ci sia la possibilità già a partire dalla prossima stagione estiva di chiudere al traffico questa zona farla diventare un'area pedonale lì metterci un po' di arredo urbano e consentire di viverla se va a spedire qui anche una parte della Movida che intasa il centro storico di Trapani perché qui montano i lidi qua si può fare musica visto che a Trapani c'è anche questo divieto potrebbe essere questa qua una zona vissuta da parte della cittadinanza così invece vissuta solamente durante la stagione estiva per andare al mare ma la sera è deserto come vediamo anche adesso e quindi auguriamoci che a queste panchine direzionate verso la strada faccia seguito quantomeno la chiusura e un ulteriore arredo urbano e mentre Trapani si appresta finalmente a risolvere i problemi di rifiuti a Erice una discarica alle spalle della cittadella della salute si ingrossa giorno dopo giorno di questa discarica a cielo aperto che si trova alle spalle della cittadella della salute ci siamo occupati più volte stamattina dopo un'ulteriore segnalazione ci siamo recati a distanza di pochi giorni sul posto abbiamo trovato almeno un 30% in più di materiale scaricato stamattina ci siamo rifiutati di fare ulteriori immagini e vi mostriamo quelle di repertorio e rinnoviamo l'appello all'amministrazione comunale è così difficile fare un'ordinanza sindacale mettere dei cartelli e punire con il sequestro del mezzo chi scarica infine ricordiamo anche che basterebbe mettere due telecamere di videocontrollo dal costo di poche centinaia di euro ai due cancelli di ingresso e individuare i mezzi che vanno a scaricare presentato questa mattina nei locali dell'istituto Rosina Salvo il documentario realizzato dai giornalisti Marco Bova e Laura Prati dal titolo La forza delle donne dal Kurdistan al Libano un viaggio fra le donne donne che migrano e donne che accolgono la guerra e le migrazioni dal punto di vista femminile il documentario realizzato dai giornalisti Marco Bova e Laura Prati è stato presentato questa mattina nei locali dell'istituto Rosina Salvo parliamo di donne in situazioni di guerra quindi tra Iraq, Siria e Libano parliamo però soprattutto dei diritti cioè di che cosa le donne possono o non possono fare e soprattutto cosa non possono fare in una situazione di difficoltà come quella della guerra dove la priorità è cercare il cibo per i bambini cercare l'acqua, cercare l'elettricità salvare un figlio da una bomba da una mina quali sono le priorità di una donna rispetto alla situazione che vive che poi è la realtà che noi viviamo anche nella nostra società cioè una donna ha spesso delle priorità che non sono le stesse priorità dell'uomo perché? perché deve pensare perché è uguale dappertutto nel mondo la donna pensa alla famiglia non c'è niente da fare è uguale in tutte le realtà l'incontro si inquadra nell'ambito delle iniziative dei sindacati CGL, CISL e UIL contro la violenza di genere noi abbiamo voluto fortemente CGL, CISL e UIL abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questo documentario in anteprima a Trapani perché è un documentario a nostro avviso molto importante molto forte perché riesce a coniugare tre tematiche importantissime come i diritti delle donne la guerra e le migrazioni tutte tematiche importanti per formare una coscienza civile nei nostri studenti e noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con un'altra edizione del nostro TG Chiesta l'archiviazione per Stefania Mod nei mesi scorsi l'azienda trapanese era finita nell'occhio del ciclone per un'inchiesta che ipotizzava il reato di riciclaggio la procura però ha chiesto di non procedere le previsioni meteo oggi e domani cielo sereno ma venti in aumento e per il TG Sport manteniamo alta la concentrazione coach Ducarello e la Palla Grasso Trapani sono volati a Roma domani alle 18.30 appuntamento imperdibile in casa dell'Eurobasket Roma Chiesta l'archiviazione per la Stefania Moda nelle indagini che la vedevano indagata per il reato di riciclaggio vediamo il servizio Il pubblico ministero trapanese Marco Verzera ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di Aldo Carpinteri amministratore unico della Stefania Moda I documenti forniti dalla difesa rappresentata dall'avvocato Ermergildo Costabile del Foro di Milano avrebbero consentito ai PM di verificare che l'operazione di vendita di capi di abbigliamento avvenuta tra il novembre del 2013 e il dicembre del 2014 per un valore di più di 3 milioni di euro finita sotto la lente di ingrandimento della magistratura sarebbe stata effettivamente realizzata senza alcun illecito come precisa una nota diramata dalla stessa azienda La società era stata passata al setaccio dai militari della Guardia di Finanza che sequestrarono a suo tempo numerosi documenti contabili Parallelamente era stata avviata un'altra indagine da parte dei carabinieri di Trapani centrata su Palazzo Europa che ospita gli uffici dell'azienda un'inchiesta nel quale sarebbe coinvolto anche l'ex deputato regionale Mimmo Fazio che non risulta al momento indagato che si sarebbe adoperato presentando un disegno di legge non approvato però dall'Aula che avrebbe apportato vantaggi alla Stefania Mode ipotesi quest'ultima smentita dallo stesso ex parlamentare il disegno di legge aveva puntualizzato Fazio non era mirato a favorire l'azienda di e-commerce trapanese ma piuttosto alla recupero di immobili abbandonati nella zona industriale prevedendo appositi cambi di destinazione d'uso con pagamento degli interi oneri urbanistici ora per la Stefania Mode si dovrà pronunciare il giudice per le indagini preliminari del capoluogo per decidere se procedere nell'archiviazione piuttosto che rinviare in procura il fascicolo per ulteriori indagini a carico dell'indagato Aldo Carpinteri Un funzionario dell'INAIL Nicola Serra di 48 anni è stato condannato a 4 anni per il reato di truffa aggravata la sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trapani Serra dovrà anche pagare una multa di 950 euro e risarcire l'istituto di 220 mila euro La Cassazione ha annullato la condanna confermata in appello contro Don Sergio Librizi vediamo il servizio Da rifare il processo a carico di Don Sergio Librizi la Cassazione infatti accogliendo il ricorso degli avvocati Donatella Buscaino Vincenzo Lore ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo Corte d'Appello che aveva confermato la condanna a 9 anni di reclusione a carico dell'ex direttore della Caritas di Trapani Don Librizi parroco della chiesa di San Pietro venne arrestato dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria del corpo forestale nel giugno del 2014 con l'accusa di concussione e violenza sessuale secondo quanto emerso dalle indagini il parroco avrebbe abusato del suo ruolo apicale all'interno della Caritas e dei comitati istituzionali d'accoglienza profughi per ottenere favori sessuali in cambio dello status di rifugiato ed altri vantaggi per gli immigrati circostanza sempre smentita dai suoi legali che pur ammettendo che ci sia stato sesso tra librizi ed alcuni di loro sarebbe stato secondo la loro tesi assolutamente consenziente rimarcato inoltre che in molti casi sarebbero stati gli stessi migranti a proporsi per ottenere vantaggi dalla posizione del parroco alla luce della decisione della Cassazione dovrà essere celebrato un nuovo processo d'appello Gli ermellini ieri sera intorno alle 23 hanno pronunciato solamente il dispositivo di sentenza riservandosi nei prossimi mesi di depositare le motivazioni del rinvio per cui si capirà la scelta che potrebbe far derubricare il reato e per questo far svolgere presso la terza sezione di corte d'appello a Palermo il nuovo processo Cambiamo argomento ATM 2.0 presente e futuro è il titolo dell'incontro che si è svolto questa mattina nell'ex aula consigliare di Palazzo Dalì illustrato il resoconto di 12 mesi di attività e le proiezioni per il prossimo anno il 2018 è stato un anno sicuramente positivo in cui le nuove attività hanno portato un buon risultato in azienda i nuovi servizi siamo ragionalmente soddisfatti e speriamo che il 2018 sia ancora meglio di quello che sta per concludersi come ha sottolineato poco fa l'ex sindaco di Erice Giacomo Taranchida lei è ha ereditato un'azienda che era quasi sull'orlo del fallimento un carrozzone come lo ha definito qual è la situazione che ha trovato e quali sono le aspettative per il futuro non ho trovato un'azienda sull'orlo del fallimento ovviamente è stata un'azienda forse che non aveva ancora trovato il coraggio di ripartire ho avuto la fortuna di prendere in gestione nuovi servizi e questo ha creato un nuovo slancio sia a livello aziendale a livello con i dipendenti che è ovviamente anche una nuova cassa economica entrate che si sono manifestate positivamente c'è la necessità oggi voi avete chiamato ATM 2.0 di dare ulteriori risposte a quelli che sono gli utenti per esempio gli autobus dovrebbero esserci dei servizi più continuati l'autobus per esempio nei giorni feriali che adesso non c'è per esempio l'autobus la domenica l'autobus la domenica li abbiamo abbiamo due linee non tutte le linee perché ad oggi comunque come ho detto durante la conferenza stampa il numero di dipendenti il numero di autisti che abbiamo in azienda non permette l'implementazione di tante linee durante la giornata domenicale perché ricordo comunque che un lavoratore poi ha bisogno anche di una giornata di riposo gli studenti dell'istituto Leonardo Da Vinci di Trapani arrivano in finale al concorso della Columbia University ma non hanno i soldi per il viaggio la gara è una gara di robotica particolare perché è una gara organizzata dal MIT di Boston e dalla NASA che consiste nella gestione di piccoli satelliti che sono grandi quando un pallone da calcio ma che vengono utilizzati sulla stazione spaziale orbitante ISS come cavi come sistemi per la sperimentazione nello spazio quindi in assenza di gravità la gara praticamente cambia di anno in anno in questo caso quest'anno è la ricerca della vita sul pianeta Saturno utilizzando una dei satelliti di Saturno dove praticamente la gara consiste nella trovare attraverso delle perforazioni sull'ipotetico suolo di Saturno e trovare forme di vita la gara consiste praticamente nello scontro fra due squadre che forniscono dei codici informatici e che vengono fatti attraverso la simulazione nei server del MIT di Boston Presidente c'è qualche complicanza Boston è lontana è costoso arrivarci i ragazzi chiedono aiuto certamente questo è uno dei casi in cui è lecito ed opportuno chiedere a finanziatori esterni un apporto economico in aiuto della scuola noi lavoriamo incessantemente e con passione per formare le nuove generazioni di trapanesi come avrebbe detto Cornelia De Gracchi questi sono i nostri gioielli e a questi ragazzi bisogna prestare attenzione e dare mezzi per poter realizzare i loro sogni questa scuola ormai partecipa da tre anni a questa competizione che ha una fama mondiale come ogni anno il team viene formato da dei docenti che scelgono appunto i componenti che faranno parte della squadra io personalmente ho partecipato alla squadra che è arrivata in finale lo scorso anno mentre questi ragazzi qua dietro hanno partecipato alla finale italiana però quindi la fase nazionale nel prossimo servizio vediamo tutti gli appuntamenti in provincia arriva questa sera all'enoteca Winehouse di via Ammiraglio Staiti a Trapani i racconti di Gioacchino Cataldo l'ultimo rice della tonnara di Favignana dalle 21 racconterà al pubblico presente le sue esperienze da saggio di mare una storia lunga vent'anni che è un intreccio di vita e di reti e dell'antica mattanza una serata nel segno dei prodotti di tonnara che ripercorreranno una storia millenaria anche enogastronomica di splendori fino al lento declino degli ultimi anni con gli occhi di chi questa storia l'ha vissuta e ne è stato protagonista oggi pomeriggio alle 16 in via Salemi 84 la manifestazione Natale in Armonia animazione e presepe vivente questa sera alle 21 nella chiesa del Santissimo Salvatore a Trapani il coro Jesus Christ Trapani presenta il concerto di beneficenza coordinato e diretto da Sabrina Braschi dal titolo Patto d'amore e questa sera alle 18.30 nella libreria del corso a Trapani l'attrice Lorena Cacciatore presenta Every Child Is My Child il volume edito da Salani che raccoglie storie e fabbie illustrate e scritte da 33 protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno deciso un po' di tornare bambini e raccogliere fondi per ricostruire la Plaster School un centro educativo e rieducativo elementare per i bambini profughi al confine tra Siria e Turchia all'evento ovviamente ci sarà il giornalista e scrittore Giacomo Pilati vediamo un po' che tempo farà nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno con temperature comprese fra i 12 e i 16 gradi e i venti provenienti da sud il mare sarà molto mosso in serate i venti continueranno a soffiare da sud ovest per domani mattina il cielo si presenterà sereno con venti da sud ovest che poi vireranno nord ovest con una velocità di circa 22 km orari le temperature minime se attesteranno attorno agli 11 gradi sui 15 le massime il mare sarà molto mosso con venti provenienti da ovest e adesso altri appuntamenti ma quelli sulla nostra emittente questa sera alle 20 e 30 a mezzanotte 15 andrà in onda una nuova puntata di solo granata la trasmissione della pallaganestro trappani sarà ospite la guardia Kenneth Villanisi invece alle 21 alle 23 spazio alla politica spazio seconda repubblica sarà ospite di Nicola Baldarotta la senatrice Pamela e adesso una breve pausa pubblicitaria torniamo qui con il TG Sport eccoci con lo sport il basket la pallaganestro trappani in partenza per Roma dove domani alle 18 e 30 affronterà l'Eurobasket questa è questo in realtà il pensiero di coach Ugo Ducarello che ci ha rilasciato un'intervista l'Eurobasket è una squadra costruita per vincere per arrivare i fili in fondo singolarmente sono tutti buonissimi giocatori è chiaro che hanno avuto dei problemi inizialmente perché comunque non è mai semplice è facile far giocare certi giocatori importanti tutti insieme hanno cambiato Davide è arrivato Trucchetto che è un ragazzo giovane che ha avuto le sue esperienze anche in A1 ha fatto pure campionati esteri ha avuto delle esperienze importanti anche in Cina con Andrea Mazzon ha messo a poso naturalmente qualche cosa hanno alti e bassi soprattutto fuori casa però in casa si esprimono in casa davanti ai loro tifosi cercano di fare sempre delle partite di energia cercano di mettere di dare ciascuno il proprio contributo le ultime partite soprattutto in casa le hanno vinte è una squadra che sicuramente se marcia per bene è una squadra una squadra importante è una squadra che dal punto di vista del talento e dell'individualità sono una squadra molto molto importante per questo per questo girona un'altra domanda ti dico in realtà molto sarebbe molto più facile dire ok questa settimana è stata facile come hai fatto a tenere il livello di concentrazione perché secondo me quando vinci una partita così importante vieni da una vittoria in trasferta c'è il rischio sottile che ti puoi un attimo adagiare invece rilassare e invece ci siamo rilassati no non è stata una settimana semplice perché ci sono stati degli giocatori che comunque devono recuperare da alcuni problemi da alcuni problemi fisici alcuni giocatori sono stati fermi per uno o due giorni non siamo tanto bene fisicamente anche perché se ci siamo allenati per uno o due giorni discretamente bene poi è chiaro che la settimana è una settimana corta e quindi abbiamo un giorno in meno oggi e ieri l'intensità del lavoro è stata diminuita per cercare di arrivare con giuste energie alla partita però è chiaro che si è puntati anche dal punto di vista delle parole durante le riunioni che questa è una partita importante mancano quattro partite è una squadra che ha le sue problematiche quindi è sempre un'occasione una partita sempre da giocare e quindi bisogna stare con la testa sempre concentrati a Grazie a tutti. 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 Aggiungerei anche di buon gusto.